Quello che si è fatto è una lettera indirizzata al Presidente della Regione, firmata da centinaia di persone, moltissimi di questi ovviamente colleghi, e soprattutto è prendere in considerazione una lettera che è stata firmata da 100.000 medici in Italia, inviata evidentemente alle strutture nazionali. Essendo adesso nella fase 2, ed essendoci quindi una maggiore libertà di movimento, c'è il rischio di incontrare o incrociare o avere relazioni con persone che sono contagiose in quel momento, è maggiore rispetto alla fase 1. Noi siamo messi qua a distanza di sicurezza e all'aperto. Io posso stare senza la mascherina perché siamo distanti quasi due metri, ed è evidente che c'è un po' di venticelle e noi tre non ci possiamo infettare. Questo non sempre succede al supermercato, questo non sempre succede in coda quando si va a comprare il pane al panificio, eccetera. Seconda cosa, un'altra dei problemi che ci sono in questo momento è quindi la possibilità di ricominciare i contagi, e quindi la possibilità di poter avere di nuovo malati, e la possibilità di poter avere di nuovo malati che debbano essere ricoverati o trattati in terapia intensiva. Allora c'è un sistema, è la lettera che è stata inviata e che verrà inviata comunque al Presidente della Regione, contiene esattamente questo. Dice, stai attento, devi fare dei test, facciamo più test possibili per vedere se vi sono persone in giro che sono contagiose ma non hanno i sintomi della malattia e perché questo in realtà è pausibile. Le consideri che ci sono ufficialmente in Italia circa 200 passa mila malati, ma in realtà probabilmente ce ne sono dieci volte tanto, perché non hanno avuto sintomi. E questo è possibile che sia successo, ma nel frattempo questi facevano gli untori, cioè contagiavano persone. La seconda cosa, dopo che vengono testate queste persone, ogni volta che si trova un positivo, testare tutte le persone che gli stanno vicine, i familiari tanto per cominciare, le persone con cui ha rapporti più frequenti sul lavoro, visto che adesso si ricomincia a lavorare, e poi queste persone vanno evidentemente isolate. Noi abbiamo già la possibilità di isolare le persone lontano dalla famiglia, se le case in cui vivono sono piccole. E poi l'altra cosa importante è trattare le persone, anche al loro domicilio, oppure ad esempio nel posto in cui vengono isolate, e per questo occorre fare delle specie di task force di medici e infermieri che vadano da questo punto di vista girando e trattando i malati, o comunque seguendoli in un modo o nell'altro. Ci sono le interviste telefoniche, si può insegnare al malato come controllare la propria ossigenazione del sangue, sono apparecchietti che costano adesso poco, misurarsi la febbre in maniera corretta, eccetera. Non solo, ma questo ci consentirebbe eventualmente, una volta che c'è la febbre, una volta che ti si rende conto che c'è il respiro corto, diciamo così, c'è poco ossigeno nel sangue, e una volta quindi c'è questo sospetto e viene fatto un test per sapere se sei stato preso da questo virus che si chiama SARS-CoV-2, e in questi casi cominciare la terapia il più precocemente possibile. Se la terapia è precoce, noi possiamo probabilmente metterci nelle condizioni di avere meno complicazioni a distanza. E poi sono sollecitazioni di buonsenso, evidentemente, le sollecitazioni che servono in pratica a cercare di evitare di allargare un'epidemia che intanto nel frattempo si è contratta. E le possibilità di allargare adesso ci sono perché le possibilità di incontrare qualcuno che si è affetto alla malattia adesso sono più alte che prima mentre eravamo nella fase 1.